Sono 118 le aree produttive nei comuni di pianura e collina del territorio piacentino per oltre 4.000 ettari di superficie. Rispetto al 2013 l'aumento è di un'unità inserita nel comune di Besenzone. Il dato evidenzia dunque una fase di stallo. Il censimento delle aree produttive è stato presentato in provincia. Si registra sostanzialmente un arresto dell'incremento di nuove previsioni per aree produttive in questi anni. direi è un effetto ritardato della crisi che ha interessato il nostro sistema economico al pari di tutte le economie occidentali sino al 2011. Oggi l'economia è in ripresa ma questo dato non si è tradotto nell'aumento di previsioni di aree per espansione anche perché esiste una quantità molto importante di aree ancora disponibili, utilizzabili in tutta la nostra provincia e quindi i comuni non hanno avvertito la necessità di effettuare nuovi inserimenti anzi stiamo registrando alcuni fenomeni al contrario aree classificate come aree produttive per nuove localizzazioni che sono oggetto di richieste di declassificazione cioè di tornare a essere classificate come aree agricole e questo perché non vi sono credibili prospettive di utilizzo rispetto alle previsioni in essere. La nuova legge regionale urbanistica prevede che fino al 2050 le nuove previsioni per aree produttive non superino il 3% pari a 420 ettari nel Piacentino.